Grazie La Fata Pozitare La Fata La Fata La Fata La Fata Si nu vorbesc pe nimeni la Microfon Ce sunet azi pe aplicator? Unde lucrur? Suntem la Radio? Suntem inceputori? Ambianta este Bai ambianta este Sa ridici eu la radio il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti